Vengo all'attualità di questi giorni, la casa, il tema della casa, non c'è nessun condono generalizzato, chi si è costruito le ville in riva al mare, in riva al fiume, in aree protette, in aree sismiche, in aree idrogeologicamente pericolose, ovviamente non ha nessuna scusa, io mi sto occupando di tutto quello che è all'interno delle quattro mura domestiche, che sta bloccando milioni di famiglie italiane per una finestra, per 20 cm di antibagno, per il soppalco, per la veranda, per la cameretta del figlio, per il sottotetto, ecco tutto quello che è internamente, che sta bloccando milioni di immobili e intasando migliaia di comuni per quello che mi riguarda va sanato, il cittadino paga, il comune incassa, si libera da tanti fogli di carta e il mercato immobiliare torna a correre e l'obiettivo è che scendano i prezzi degli affitti e degli immobili in vendita, quindi ci stiamo lavorando, ci abbiamo lavorato con gli ingegneri, con gli architetti, con i geometri, con le società di costruzione, con gli agenti immobiliari, ancora qualche giorno di rimatura, poi lo presenteremo a tutta la squadra di governo e porteremo in Parlamento quello che è un atto di giustizia sociale che muoverà tante energie, tanti soldi, tanti immobili.